ciao amici e amiche grandissimi shadow warrior 3 nuova puntata continuiamo non perdiamo tempo siamo arrivati a un gran bel punto dove arriva un sacco di nemici un sacco di nemici allora la puntata scorsa c'era il mitico zan e boy dove abbiamo fatto un po di gioco insieme adesso continuiamo con questo gioco che comunque è un bel gioco splatter molto tosto molto tosto e andiamo a finirlo andiamo a completarlo dai ok siamo arrivati in questo punto l'altra volta dove c'era un sacco di gente un sacco di roba che arrivava direi incredibile che non finivano più graficamente è buono che qui è questa? upgrade punti? ah ma ne manca ancora uno fa poco upgrade eh? ci vuole veramente tanto fare l'upgrade quasi uh era la sua spada eh è Is that a body part you need? Ok, anche questo è tosto, eccolo là Veli che hanno la corazza sono i più rompimi Vediamo se ce lo piaccio Ah, c'è lui Ha rimarchito Ma porca Ma questi qua sono i più brutti Dai, dai, dai A volte mi prende il comando Oh, c'è il comandante? come schlazze ragazzi no ma quello lì potevo far cadere tutti nel buco cacchia non l'avevo visto non l'avevo visto li facevo cadere tutti nel buco sicuramente ci sarà stato un trofeo oh 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 No davvero Ne ho un altro Con uno di vita Davvero? Cacchio Ah Dai Da capo No Questo no Ah no si è diviso in due Da capo No raga Cacchio 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 Niente Cacchio 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 ma come scappa no 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 dove dove oh ma dai era morto era morto oh 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 dai torna fuori che ti spara anche cinque missili oh 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 Cacchiarola Cacchiarola E dai ma che cos'è sto robot? Ma dai ma muoio sempre ma cos'è la seconda fase? Ma perché la seconda fase fa così? Ma perché la seconda fase fa così? E magari chivo Marco Allora la prima fase penso che ormai l'abbiamo capita il discorso è solo sulla seconda La seconda fase è quando lui sale che non ho capito Allora Allora lui che quando salta Allora Allora devo ammazzare lui forse Ah ok ok cacchiarola Vai 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 Dai Cos'è che devo fare? No cacchiarola no Sì sì No Vai tirati su dalla sporgenza Ah eccolo qua Ah è tutto qui Ma l'avevo già fatta due volte Ah è tutto qui Ah è tutto qui Ah è tutto qui Ah è tutto qui Ok 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 Ooooooooh! Porca locca, dai dai! Grande! A pelo raga! Sì, perché coscienza sarebbe impossibile. E vai! Luang, il suo nome è Trofee! Second biggest I've ever seen Can you promise me no more waterfalls Ahhhh Primordial Super crystal Devo, credo Proteggerlo Bello che c'è una corrente pazzesca Però a barile fermo A meno che sia stato ancorato sotto Musica tecinesi bellissima Intanto sto distruggendo Praticamente tutto C'è la barchetta passata E io no Mamma che stupendo in via Dice and dice, baby I hope that egg is still where you left it Where else would it be? I'm just saying And complaining And complaining and whining and nagging Because you never listen Because you never shut up Have you looked in a mirror lately? Non ho poche armi eh Poche munizioni Poi sono diventati più torti eh Non ho poche armi eh No ho poche armi eh attenzione a quello lì eccolo qua lama per lama c'è furtivamente l'app un po' porca loca porca bellissimo quando gli scava fuori roba ahahah fantastico come si arrivo ma porca non ci credo non ci credo che non mi ha preso col triangolino non so come ho fatto questa è stata fortunella e ancora un'altra volta e ancora un'altra volta ma tu vuoi vedere che qui non si può andare su è solo quello boom continuiamo continuiamo non ci credo che non ci credo non ci credo Vedi che tutta questa negatività costante non può aiutare. Ma che? Scusa! Ma è difficile essere posizionato se la sua conoscenza è troppo in un pezzo di bianco troppo troppo vicino a qualcosa che non si trova! Scusa, guarda che stupido! No, non si fa più tornare indietro. Stava con dietro. Quegli dietro non si toccano, raga! Scusa, guarda che stupido! Senza questa città, non ci sarà mai avuto il ragazzo! Cosa cosa è questo? E come posso essere stupido? E un stupido? Stupido stupido! Vedo l'ho, Wang! È in l'acqua! A momenti muoio. E vai, e vai! All'ah! No! Ah! 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 Ti-Que-zi! Ok,.... Ah! Ah! Oh è mega esploso attencio a volte mi perdo ok esplodi cacchio mi frega tutte le volte ok ce l'abbiamo uno per upgradare si e vai anche lui vai ok pistola a post dai 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 non fare così bravissima non sono convinto che è di qua no in realtà non credo ma credo che è qua ahhh tutti spopolati ok a mia defense Tu face looked funny even before I put that hole in there. Wow! Did you see that shot? No? Oh yeah, cause you were too busy dying. Hey! I love six-shoots! On the Asian Clint Eastwood, bitch! Let's go! Sì. wow ragazzi c'era tanta roba porca o sbagliare o sbagliare sai se dovevi far tutto da capo quando passava dai dai diamo questo uovo dov'è porca o sbagliare 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 Non è il hugo. Mi piacere che sei qui, amico. Ci siamo ancora qui? Per un mille volte? Quasi! Mi chiedo che stai a creare la mia anticipazione a un livello impossibile... Ah? Ah? E chi ha il BFG adesso? Questo è proprio... Dammit! Wow! Hmm... E... Cosa è questo? È un... 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 Un canone! So we can blast that filthy reptile out of the sky! You're in for quite a ride, brother! Just follow my lead! Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, visto che siamo arrivati al mega checkpoint, ci vediamo nel prossimo video con questo gioco che secondo me è veramente figo, veramente figo. Non so a che... A che punto siamo arrivati del gioco, ma non credo che sia infinito. Quindi... Torniamo nel Mienus Prions Ball. Mi raccomando, ragazzi, di seguire Marco Drums Games tutta la serie di Shadow Warrior 3. Spero di riuscire a finire da tutta. E eh... Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando di seguire il canale, commentate e mettete un mi piace, ok? E iscrivetevi a YouTube. Ma ho anche un bellissimo canale, Twitch, dove faccio cose veramente fighissime le live di Orteventi. E mi piace giocare tantissimo con voi e con voi. Ahahahah! Va bene. Allora, ho anche canali Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, che non uso. Discord, che usiamo, con tutti i ragazzi che parliamo, ridiamo, scherziamo. E eh... Vi scrivo anche tutte le live, volta per volta, alle ore 21. E eh... Savato domenica alle ore 15. Faccio tutte le gare di Formula 1 quando le fanno anche nella realtà. Però adesso che fa caldo, insomma. A volte, qualche volta, salta qualcosina. Ciao, ragazzi, alla prossima. Mitici da Marco Drums Games Channel. Seguitemi su tutti i social, soprattutto su YouTube e su Twitter. No. 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 Su YouTube e su Twitch. Twitch, Twitter, è un casino, ragazzi. Mi va ai papà cervello. Sono vecchio io. Ahahahah! Ciao, ragazzi. Alla prossima. Grazie, amici. Ci vediamo al prossimo filmato di Shadow Warriors 3. Ciao. Ciao. Ciao.